Il marmo è amore, è passione, è un patrimonio da conservare e noi abbiamo il dovere di rispettarlo. Zagros è la sintesi tra tradizione e innovazione, tra storia e sviluppo. È stato Nonno Tommaso che con il suo entusiasmo, i suoi racconti, è riuscito a trasmettere l'amore e la passione per questo lavoro. Ogni cliente ha un'aspettativa, per soddisfarla è nostra responsabilità, selezionare in cava i blocchi compatibili con la sua visione. La fase successiva è la produzione, dove siamo estremamente sensibili e meticolosi nel controllo qualitativo, ovviamente sempre al fine di garantire al cliente finale un risultato a regola d'arte, grazie anche alla valerci delle più avanzate tecnologie disponibili. a regola d'arte, grazie anche alla valerci delle più avanzate tecnologie disponibili. La Sicilia nasce dall'idea di completare la filiera del nostro lavoro. Noi siamo stati sempre cavatori, partiamo quindi dalla cava, partiamo quindi a produrre il blocco, a creare un semilavorato e a spedire poi il semilavorato in tutto il mondo. Il marmo è storia, autenticità è bellezza. L'obiettivo di Zagros è quello di regalare ai nostri clienti un progetto vero e unico. La cosa bella di Zagros è che nonostante la continua crescita rimane una famiglia. Musica 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 Grazie.